... Stefano dove stiamo andando? No Bene Stiamo andando alla fiera di Roma Nuova fiera di Roma Capitanarlo che si dovrà alligliare Capitanarlo Capitanarlo Fate vedere Compriamo niente Non compriamo niente Bene Bene, abbiamo appena scaricato da iTunes questa applicazione Bot Car, possiamo utilizzare orologio con il timer, possiamo vedere YouTube, abbiamo anche un nostro video qua sopra. Possiamo ascoltare da radio, scegliamo una radio danese, questa, ok, poi c'è un'altra applicazione. Vediamo l'audio come si comporta, cioè l'interfaccia per l'audio, per l'aspetto dell'audio. Vediamo che adesso questo funziona, perché c'è il don. Tu hai bisogno di questi. Vediamo che adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.